Siamo con Emanuele Propizio, giovane e bravo attore italiano. Allora Emanuele, quanto è stato importante questa sera essere qui all'Aquila, in una città che dopo cinque anni porta ancora le ferite del terremoto? E soprattutto quanto è stato importante per te partecipare al ricordo di un ragazzo che amava tanto il calcio come Giovanni Compagno? E una cosa posso dire, sono veramente felice di essere qui stasera, l'ho fatto con tutto il cuore e siamo venuti qua per fare questa partita a scopo benefico. e conosciamo tutti purtroppo la realtà di questa città dopo quello che è accaduto, però sto vedendo che piano piano con tanta forza si sta tirando su da sola e sono strafelice perché comunque l'Aquila merita tutto questo e niente, è vero, sono qui anche per quel ragazzo che speriamo che stasera da lassù almeno un po' si è divertito e niente, sono un po' stanco, dico la verità, però ripeto, sono orgoglioso di stare qui stasera e di partecipare a questa bellissima manifestazione. Le tue parole sicuramente ti fanno onore. L'ultima domanda e ti lasciamo andare in doccia, sei romanista, giusto? Sì, sì, sono romanista, fortunatamente sono romanista. La Roma ce la può fare quest'anno a vincere lo scudetto? Non ce la deve fare, no scherzo. Sta facendo anche la Roma grandi progressi, ha cambiato la gestione, questi americani piano piano stanno facendo un'ottima squadra e speriamo che quest'anno facciamo un buon campionato e che vinciamo qualcosa.